Allora, sono tutti sul Covid, però ormai possiamo un po' incominciare a scherzarsi un po' sopra. Bisogni umani prima del Covid, moralità, sapete questa qui è la piramide di Maslow, che era uno sociologo, si occupava di robe, lo sappiamo noi un po' accademici, questo pippone qua, che moralità, fino al cibo, il cibo è proprio la base, cioè in poche parole sono persone che hanno meno interessi, si fermano, la base è il cibo, poi dopo il secondo è l'amore, poi la sicurezza, eccetera. Bene, dopo il Covid, internet, sostituisce anche il cibo, cioè se non c'è internet sei morto. Praticamente sono io da vent'anni fa, trent'anni fa, la differenza è che trent'anni fa mi dicevano te sei fuori, bello, cioè te non sei mica normale, invece adesso siete tutti come me! Poi, questo, le applicazioni che avevamo, prima Uber, per viaggio a booking, tutte le robettine, per andare a mangiare, Airbnb, Expedia, dopo Amazon, solo roba online, Twitter, Netflix, eccetera. Poi di Netflix, questo era la normale piano della serata, di là, oh, no, non ci arrivo, di là, e con un po' di Netflix forse, adesso è solo Netflix, sono altri piani, ovviamente anche me, il lunedì, è striscianotizia tutti i giorni. Dopo, eh, dov'è? Oh, anzi, striscianotizia, anche lunedì e io arrivo dopo, ovviamente. Poi, prima del Covid, collaboratori, come si dicono, i colleghi, colleghi, erano colleghi, adesso c'è il cane e il gatto. Prima il frigo vuoto, adesso il frigo pieno, e questo è vero, soprattutto, vedete, quando le ho viste, mi ha fatto in mente una cosa, che questi assomigliano un po' anche a quelli, non solo, direi, soprattutto a quelli che vivevano nelle città, sempre pieni di cose da fare, sempre socializzati, si sono trovati chiusi dentro una stanza. E qua a Londra, purtroppo, è successo molto spesso. E poi visitare i posti, prima, dopo, ovviamente con lo sfondino, e questo sono io, prima del Covid, e dopo il Covid, basta, è finita, un pallone che rimane lì, però mi depallonizzerò, io lo so, ce la posso fare. E dopodiché, ah, questa è la più bella, se vai in banca con la maschera, prima del Covid ti dicevano, chiamo la polizia. Dopo il Covid, se vai senza maschera, chiamo la polizia. E l'ultima, prima del Covid, era, ti dobbiamo vaccinare, tu, ah, no, il vaccino, no, che pa, mi devo fare un buco. E poi, dopo il Covid, prego, vaccinatevi, vaccinatevi, mi prego. Bello, eh, mi fa ridere. Vabbè, allora.